ciao a tutti e bentornati al nostro corso di tinkercad la puntata scorsa abbiamo visto come creare un account di tipo docente vediamo ora di creare un account ordinario utile per studenti over 14 o per genitori andiamo quindi a vedere direttamente la pagina iniziale di tinkercad che è questa in alto a destra c'è il tasto registrati ora non vogliamo un account per insegnanti nemmeno per studenti creiamo un account personale apriamo le altre opzioni di accesso ma prima due parole perché riguarda la privacy abbiamo accennato ai 14 anni come limite minimo per gli studenti per poter accedere all'account tinkercad perché perché in italia la normativa che si adegua a regolamento gdpr europeo impone che siano i 14 anni che possono dare consenso per attività e servizi informatici quindi per accedere o una mail o un servizio come quello di tinkercad i minori non possono quindi vediamo qua anche che in europa la normativa è diversa vediamo anche che i software house fanno fatica ad adeguarsi alle singole normative nazionali e vediamo quindi adesso come veramente si può entrare in tinkercad e crearsi un account allora la prima opzione è quella di iscriversi con una mail che è quella che consiglio sempre attenzione però nel caso di studenti non consiglio di usare l'account di istituto primo perché bisogna verificare se il regolamento redatto dal dpo lo permetta secondo perché normalmente i tipi di account lì durano poco durano tanto quanto il corso di studi può succedere che dopo alcuni mesi alcuni anni questo account venga dismesso e quindi avrete problemi ad entrare in generale io non uso questo tipo di servizio di entrare con google apple microsoft o facebook perché in ogni caso so che è sicuro perché mandano solo dei token ma c'è sempre uno scambio di informazioni tra il mio servizio che voglio scegliere in questo caso autodesk tinkercad e quello di una delle software house che ho scelto come token di ingresso è possibile anche creare un account per under 13 13 perché è il limite negli stati uniti sede di tinkercad come si fa è un account ordinario il ragazzo si iscrive in maniera ordinaria deve però dare anche l'email di uno dei genitori nel frattempo autodesk farà un controllo che può durare fino a una settimana attraverso la richiesta di documenti al genitore in modo da poter dare il via proprio all'account vero e proprio cosa succede se un ragazzo in italia ha tra i 13 14 anni perché i limiti sono diversi e succede c'è un po un bilanciamento come è successo per tiktok tempo dietro e il garante della privacy ha detto che i maggiori i 13 anni possono crearsi un account vero e proprio ma in quel caso lì fino al compimento i 14 anni devono essere assistiti dai genitori ecco questo è un po il tutto vediamo quindi come si fa ad accederci si iscrive con l'indirizzo mail ad esempio si mette la nazionalità che nel nostro caso ovviamente è italia si mette una data di nascita che ovviamente non è la mia facciamo però maggiore di 14 anni si va avanti verrà chiesto una mail e una passo e poi arriverà nella mail proprio un email di conferma con un link su cui cliccare per confermare l'email stessa insomma il procedimento è abbastanza semplice devo dire questo è tutto quello che dovete sapere per creare un account ordinario non mi resta altro che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata ciao ciao